buonasera a tutti allora forse vi sarà capitato di incappare in certi video realizzati così volevo solo dirvi due cose mentre sto andando al lavoro che vi ho mandato una bellissima newsletter con uno sconto speciale per voi e che la trovate in nella vostra casella di posta oggi oppure altri video che fanno così fai questo questo questi ottieni ecco realizzare dei video così per chi si sente introverso come me e forse qualcuno di voi risulta un supplizio per introverso che magari un termine un po inflazionato io intendo una persona che pensa 1 2 3 4 5 6 10 volte prima di pubblicare qualcosa oppure che preferisce si sobbarca lunghissime mail pur di evitare una semplice telefonata oppure ancora che si sente e poi di fatto lo fa la carta da parati in qualsiasi evento in cui non conosce le persone io mi chiamo silvia bevi l'acqua e sono una giornalista nata direttamente sul web quindi nessuna nostalgia per la carta il profumo della carta sono una video maker fin dall'epoca delle video cassettine mini dv quelle che si usavano anche per i video amatoriali delle vacanze mi piace farmi chiamare maestra di video magie perché di fatto creo video ma soprattutto mi piace insegnare a farlo ho un canale youtube che mi ha regalato un'altalena di emozioni tante soddisfazioni ma soprattutto dei contatti veri delle belle relazioni e anche dei clienti quindi quello che vi volevo raccontare oggi appunto video per introversi è che magari c'è un altro modo di affrontare la videocamera perché spesso mi capita di trovare persone che hanno paura a guardare dentro quell'obiettivo e che in realtà parlare una videocamera non è così spaventoso come distribuire i biglietti da visita che è un po la sintesi di quel mondo di pubbliche relazioni che si dà un po per scontato che freelance imprenditori debbano fare e quindi per fare ciò faccio un passo indietro e vi racconto un po come è andata la mia storia circa cinque anni fa ho deciso di aprire una partita iva perché ero stanca di contratti ridicoli e soprattutto di e venivo anche da una grande delusione che possiamo anche definire un fallimento cercavo di fare un po piazza pulita di quelli che erano stati i miei clienti le collaborazioni precedenti e quindi non avevo nessuno contatto non sapeva nessuno sapeva che esistevo insomma se non le persone con cui non avevo voglia di lavorare e quindi ho così o per pensando di come farmi conoscere ecco le informazioni venivano un pochino da quella varisotto imprenditoriale da cui vengo in cui per lavorare bisogna essere del giro giusto quindi frequentare persone con tanti soldi o con potere decisionale i contratti gli accordi di lavoro si fanno anche sotto l'ombrellone e soprattutto il top di questa strategia si racchiudeva nel iscriversi al golf club non perché si gioca golf ma perché si frequenta il bar del golf e questa cosa oltre essere fuori dalla mia portata economica era un po anche tutto il motivo per cui rimasta legata a contratti ridicoli per tutto questo tempo allora poi ho deciso di iscrivermi a una business academy dove ho imparato tante cose interessanti sulla strategia di marketing sul piano sul business plan e su tutte queste cose ma il clima che si respirava in quegli incontri che i tempi erano ancora in presenza era quello che bisognava essere popolari quindi correlato alle elezioni c'era anche una sorta di gamification in cui si vincevano fish se si era se si facevano interventi più o meno interessanti ma in qualche modo ci si faceva notare se si assumeva un atteggiamento di leader all'interno degli esercizi che venivano assegnati oppure se si era votati come il compagno di corso più popolare e anche questa cosa è un pochino faticosa ho provato anche la strada del networking nella Milano pre covid gli incontri di networking c'era solo l'imbarazzo della scelta si poteva passare le giornate a fare incontri di networking ma anche questi erano un pochino faticosi ecco io mi sentivo sempre quella che scendeva dalle pre alpi varesine ed erano anche faticosi l'organizzazione insomma quindi sono networking va benissimo è bellissimo ma se la sindrome della carta da parati diventa veramente faticoso e a quel punto ho deciso che avevo bisogno di una svolta quindi era l'epoca ancora in cui facebook valorizzava o quantomeno l'algoritmo di facebook valorizzava qualsiasi video qualsiasi documento in formato mp4 e in cui montemagno raccontava che bastava pubblicare un video al giorno e il mondo ti avrebbe notato e allora ho deciso che ok dovevo fare video ma siccome io video li avevo sempre realizzati ma da dietro la macchina da presa cioè io facevo documentari oppure creavo filmati educativi ma mettersi dall'altra parte era tutta un'altra cosa allora ho provato a ad avere un alter ego che era questa bambolina che ho cercato faticosamente di animare per fortuna l'esperimento è durato poco perché era veramente una cosa parecchio parecchio faticosa e quindi ho realizzato che potevo farcela il giorno in cui sono ho visto un video realizzato col green screen che è quella tecnica per cui ci si mette davanti uno schermo verde illuminato decorosamente e ci si può ritagliare e quindi farci diventare una figurina che si può mettere un pochino dove si vuole ai tempi questa tecnica non era così sdoganata come ora che con i filtri di zoom e di tik tok e allora quando ho visto questa cosa ho detto ok però se mi faccio piccolina divento grande divento piccola mi sposto e l'attenzione dello spettatore passa da me all'abilità in montaggio ce la posso fare ed è stato così che ho pubblicato i miei primi video su youtube e così ho iniziato non so perché abbia scelto youtube quando il mondo intero scommetteva su facebook probabilmente perché su youtube non c'erano i miei conoscenti e compagni di classe quantomeno era più difficile riuscire a raggiungermi però è stata sicuramente l'intuizione più così più più felice che abbia avuto e quindi nulla tardi però ho quattro cose da dirvi sulla mia esperienza perché magari possono tornare utili anche a voi la prima è che conoscere gli strumenti aiuta non sono l'essenziale nel senso che servono contenuti e serve una strategia però conoscere gli strumenti ti mette in una situazione di così di sapere quello che si fa e in fondo realizzare un video catturare audio e video diventa è diventato sempre più semplice nel corso degli anni e saper usare l'attrezzatura è un pochino come tutta l'attrezzatura che utilizziamo che sia una pentola pressione piuttosto che l'automobile la seconda cosa che ho imparato è che tra il mostrarsi magari in video lunghi in cui si parla più o meno ruota libera e nascondersi dietro magari l'animazione della bambolina piuttosto che le proprie maniche cucinano disegnano o ancora degli delle registrazioni dello schermo ci sono un sacco di vie di mezzo che si possono creare e ognuno di noi può ognuno può trovare la sua giusta via di mezzo semplicemente conoscendo un pochino di più il linguaggio delle immagini la terza cosa che ho la terza cosa che ho imparato è che la simmetria del video può essere un vantaggio perché l'ho dato un po per scontato perché io parlo sempre di video comunque girati registrati e pubblicati non di dirette alle dirette ci sono arrivata poi col tempo comunque la simmetria del video ti garantisce un grande vantaggio soprattutto per chi preferisce lavorare dietro le quinte perché è senz'altro vero che i primi sette secondi in sette secondi dai una tua prima impressione però è diverso preparare quei sette secondi di prima impressione e magari lavorarli anche in post produzione piuttosto che giocarteli in un ascensore con i sette secondi di elevator pitch quindi anche questo è un grosso vantaggio soprattutto per chi fa così fa più fatica a lavorare con le pubbliche relazioni l'ultima cosa che ho imparato è che è importante studiare pubblic speaking video speaking e tutte queste cose e sicuramente mi ha aiutato l'incontro con una poi cara amica giuliano bertini ma la cosa più importante è riguardare quella immagine digitale di noi stessi con amorevolezza perché spesso siamo molto severi con noi stessi e soprattutto io lo sono e suppongo che altre persone facciano come me mentre invece è importante riguardare quella persona a volte io le immagino come se non fossi io come se fosse una mia amica come se fosse mia figlia come se fosse mia sorella per poter correggerla valorizzare quello di quell'immagine che abbiamo creato e tenerla e invece lasciare andare alcune cose per innescare un processo di miglioramento continuo e allo stesso tempo con quell'immagine digitale si crea un rapporto dialettico nel senso che io l'ho creata però a un certo punto è stata lei che aveva delle cose da insegnare a me con l'immagine digitale è stata quella che h24 sette giorni su sette raccontava qualcosa di me di quello che sapevo fare anche mentre io sono qui o quando sono in vacanza quell'immagine digitale è stata quella che è stata in grado di trasmettere il valore di quello che so fare molto più di quanto io avrei mai saputo fare dal vivo e quell'immagine digitale è quella che mi ha permesso di crederci che ce la potevo fare anche se era una ciuffega galattica nelle pubbliche relazioni e nel dare il mio biglietto il mio biglietto da visita e quindi niente e a volte devo dire grazie a quell'immagine digitale perché sicuramente lei che ha dato il coraggio di essere qui questa sera e quindi nulla io grazie